Ciao a tutti e agli ascoltatori di Radio Number One, oggi è il terzo giro della città di Sanremo. Noi in questi giorni siamo stati fortunati e abbiamo incontrato tantissimi artisti. Sarà successo la stessa cosa alle persone che girano qua intorno? Andiamo a chiederglielo. Ciao, qual è il personaggio famoso che hai visto in questi giorni? Io. Lele. Lele. Sì. Poi Elodie. Poi? Fiorella Mannoia. Salve! Ancora al mal di gola. Gli portiamo la borocilina. Ciao! Il nome di un personaggio famoso che hai visto in questi giorni? Giusto! Un personaggio famoso che hai visto in questi giorni? Beh, non è neanche detto che voi li conosciate. Cioè, non saprei neanche dire chi veramente di famoso ho incontrato. Nessuno, nessuno, nessuno. Uno? È Fiorella Mannoia. Ne ha già visto qualcuno di personaggio famoso in questi giorni? Sì, no, D'Alessio, ma no. Pronti per la cover? Che sta passando! Magari. Allora, tanto. Allora! Questo signore ci sembra molto interessante. Mi scusi, ha visto qualche personaggio famoso in questi giorni? No, solo Fiona Ciacalli. Nessun altro. Abbiamo cercato, tra l'altro, ripetutamente, di incontrare altri personaggi famosi, ma più di Fiona Ciacalli nessuno. Termina qui il nostro terzo giro della città di Sanremo. Alla fine devo dedurre che siamo stati molto più fortunati noi. Io vi do appuntamento domani e ciao! Ciao!